Il tour piatti stupefacenti, il buon cibo contro la droga, statera è al terra antica di Baronessi Salerno. Insieme a me ci sono le veline di questo locale. Veronica, ciao buonasera, e Giovanna, buonasera. Veronica insomma statera ci ha fatto un po' da mettere, cosa ci hai fatto assaporare? Vi abbiamo fatto provare i nostri antipasti tradizionali, quindi composti con formaggi, ricottina e mozzarella di bufala fresca, i contorni. E poi i primi piatti, avete provato tre primi differenti, pasta fresca fatta in casa con le varie preparazioni. Ed è stato, vi assicuro, tutto buonissimo. Quindi venite, se avete la possibilità di venire a Baronessi, terra antica. Mi raccomando, perché noi siamo con piatti stupefacenti, perché il messaggio di statera è questo. Un attimino, eh. Mi raccomando ragazzi, più proteina, meno cocaina. Abbasso la droga, perché la nostra droga è un buon piatto di pasta.